Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Sivio in questo nuovo video di BODELANDE PRESS SEQUEL! Bene, andiamo a fare pure la missione d'amore per la tipa strana, sviolinata, insomma sì. E vediamo di generare questo veicolo che è quello più veloce per il momento. Quindi sì, insomma andiamo, vediamo un po' dove dobbiamo... Sì, l'ho notato... Senza morire, grazie. Ok, siamo già arrivati, insomma sì, devo trovare il primo spasimate, devo parlare quindi questa è una donna sicura? Diciamo forse? Speriamo? Vediamo. Chi c'è esattamente qui? Qui sopra? No, qui dentro, ok. Mi scusi lei c'è nessuno... Io non lo vedo ragazzi, sono cieco? Perché mi dice che c'è qualcuno e io non vedo nessuno? Io lo farei volentieri ma non vedo un cazzo di nessuno. Ehm... Non è che per caso non è caricata la texture o sono svinato io? Intanto prendiamo cose... Ehm... Adesso arrivo eh, perché mi devo riprendere un secondo. Non vedo nessuno ragazzi, non mi da l'hitbox. E a che cazzo lo do? Che sia lì fuori? Ehm... Allora... Ci dovrebbe essere qualcuno, più o meno eh? Perché ho visto qualcosa qui che si rossava? Questo ho visto. Ragazzi, non so dove sia. Ho sentito parlare ma non ho visto nessuno. E' un po' inquietante la cosa. Cioè, non è che immaginare sto spasimato, no? Perché chiedo... Cioè, aspetta... Da lei mi aspetterei anche questo eh. Io... Però sono entrato qua e ho sentito parlare. Che sia al piano di sopra? Non ce l'ho fatta. Cioè, potrebbe essere anche al piano di sopra. È l'unica cosa che mi viene in mente ragazzi, perché se no... Non saprei dove andare. Non ce la faccio andare qui sopra. Ok, ce l'ho fatta. Aspettate. Ok, sono andato di sopra. Giusto per... Dico, magari sono sviolinato io e non vedo nessuno. Quindi casi ci sono due. O questa qui è fumata ed è molto probabile. Che lo sia. Oppure qui non esiste effettivamente nessuno. Andiamo a vedere qui fuori. Ah sì, qui. Scusatemi. Ma cazzo. Mi diceva lì e io non vedevo nessuno. Insomma sì, ho fatto la figura di merda. L'infermiera Nina ha una cotta per te. Mi ha chiesto di darti questi. La piccola Nina? Piccola? Ma dai, non avevo idea. Sto arrossendo. Sto arrossendo, vero? Oh santa madonna. Dì a Nina che passerò a trovarla in città. Ora uccidi lui con gelo. Vediamo se ancora ha bollenti spiriti. Cosa? Questa è scema. Hai freddo? Ma che cazzo... Che peccato, ragazzo carino, ma troppo debole. Ma che cazzo... Nina dimentica di dire. Tu provi spasimanti, sì? Se abbastanza forti da affrontare amore di Nina, sopravvivono. Ora vai a cercare spasimante numero due. Non dimenticare biglietto e fiori. Sì. Ma che cazzo... Ma quanto sfumata è questa? Cazzarola, mamma mia. Cioè... Vabbè, non faccio domande. Insomma, sì. Chi è? Ah, ma lei è simpatico. Gli l'ha mai detto a nessuno. Sì, ma io magari ci si prendo sto coso. Andiamo qua. Ok. No, perché se mi devi stare dietro tutto il tempo... Ma perché prima non c'è... Insomma, sì. 23. Non è tantissimo. Andiamo... Scusate. A prendere il prossimo spasimante. Speriamo di dire che questo qui non sia fortissimo. Perché, insomma, sì. Ok. Ok. Oh, salve. Questi ce la facciamo? Beh, sì, dai. Se prendiamo gli occhi. Ci danno qualcosa di buono. Non ho visto il caso. Non mi sembra. Ok, andiamo pure. Scusatemi tanto, ma... Sembrerebbe quasi qui. Sembrerebbe quasi qui? O giù di qua? Insomma, più o meno da queste parti qui? Andiamo un po'. Nel punto di... No! Dice che devo andare proprio nel punto di... 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 Nel punto di... uscita. Non mi veniva. Di travel. Insomma, sì. Ah, vabbè. Andiamo da un'altra porta. Da un'altra porta. Ok. Ah, quindi uno in ogni paese? Che vedete. Vedevo l'ora. Sì. Ok. Vediamo un pochino dove, quando e come andarci. Non c'è il... Non c'è niente. Quindi andiamoci a piedi. Ah, insomma, sì. Questa torna è un po' più impervia dell'altra. Non me la ricordo, sinceramente. Ancora in difficoltà, però. Insomma, sì. Ecco qua. Scusate. Ok. Facciamo così perché... Ecco, almeno così. Vedo se c'è qualcuno. Non c'è nessuno. Meglio così, insomma, sì. Dovrebbe essere qui dentro. Non so se è quella quest che proprio fa togliere tutti. Può essere. Oddio, guardate. Speriamo. Facciamo le dita. Aumenta la cadenza di fuoco. Aumenta il danno da schianto. Fornisce bonus diverso. Ma... A parte che sono pieno. Mi scordo sempre di vendere. Accidenti a me. Ma perché non trovo mai uno tipo quello che ho preso io, però più potente? Sarebbe proprio il caso. Allora, deve essere qui, da queste parti. Perché non vedo niente che sia qui sopra. Adesso mi tocca anche trovarlo. Perché sono soltanto essere svinati. Sono anche dei posti più estrusi. Eccolo qui. Andiamo pure. Vai. Mi scusi lei. Sembra forte. Dai lui regali. Spero niente sangue sopra. Aspettate un attimo, ragazzi. Perché io non vorrei che continuare un pezzo di marone. Ok. Ok. C'è un altro. Clicchiamo. Dov'è? 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 Perché sapete, io non vorrei che rompesse i maroni. Ecco qua. Perfetto. A posto. No, perché sapete, insomma, sì. Il premiera Nina ti ha adocchiato. Mi ha chiesto di darti questi. Da parte di Nina ho perso il conto delle volte che mi ha rattoppato. Ho sempre sperato e sognato, ma non mi aspettavo. Ora uccidi lui. Usa arma acida. Vediamo se suo amore ha pelle dura. Cosa? Acida? E dove cazzo lo trovo? Ma perché sei così sbionata te? Porca miserica. Acida? Acida come te? Molto efficace contro le corasse. Dovrebbe essere questa. Allora, proviamo un attico a togliere questa. e vediamo un po' di metterlo oltre. Ok. Eh, diventavo così intanto. Eh già. Eh già. Serena donna. No, Nina resta fedele a piano. Trova spasimante numero 3. Non dimenticare biglietto e fiori. Tanti soldi per quelli. Eh, allora, se considerando quello che mi ha chiesto, quasi sicuramente mi chiederà o incendiaria, o esplosiva, o fulminia. Io fulminia ce l'ho o lancerà di esplosiva ce l'ho e incendiaria ce l'ho. Quindi, in teoria, dovrei essere a posto. Spero. Però, cavoli, se sei fumata, ragazza. Cioè, non ho proprio parole per descrivere quello che, insomma, sì. Avete capito. Io ho stato chiaro, insomma, sì. Allora, devo andare di là. Vediamo di là. Ma perché mi fai prendere la mappa quando sono in volo? Eh, devo fare un po' di giri. Però dai, facciamoli. Mi sono andato ad infilare da qualche parte brutta, vero? Proprio lì sopra. Che bella cosa. Porca miserica. Adesso qui mi... No, che c'è questa gente qui. Non si muove. Ok. Andiamo via. Eh, è l'unica, eh. Mi seguono, vero? Probabilmente sì. Hanno rinunciato, hanno desistito. Bene. Andiamo pure dal terzo spasimante. Cosa cazzarola è? Dove cacchiarola è? Oh, ma salve. Lei è un po' stronzo. Le ha detto da nessuno? Ok. Andiamo anche da lui. Questo dovrebbe... Quasi. Ma dove cazzo ha tirato? Complimenti. Eccoti qua. Così non rompi più i marroni e siamo a posto tutti. E non mi avete dato un casso. Complimenti, insomma, sì. Ok. Andiamocene un altro. Che palle. E perché io mi fermo sempre a sparare? Perché queste qui hanno un agro incredibile. Che continuano a seguire fino all'esasperazione. E quindi sì. Ok. Almeno ci ha dato proiettivi per questa pistola. Oh cazzarola. Ehm. Meglio filarsela. Tanto qua non entrano loro. Quindi siamo a postolo. Sì sì sì. Vedete che adesso la gente c'è? Oh cazzarola. Ecco qua. L'ha cazzavolato. L'ha cazzavolato. Ehm. Bisogna che li amassi. Vabbè fatienza. Ah. Ammene. Insomma sì. Dai. Ci la possiamo fare. Vieni qua. Oh grazie. Mi fa tanto piaciore. C'è qualcun altro? Sì. Tanta gente. Ok. Potrei farlo col cecchino eh. Senza nessun problema. Però insomma sì. Divertite con la pistola. Poi dai. Cerco di tenerlo. Ecco. Vedete. Cerco di tenerlo. Oh salve. È purtroppo ora. Non ho tempo di mirare. Vieni a far così. Ok. Altri? A quanto pare sì. Altri ancora? A quanto pare sì. Oh questi. Dove sono? Dove sono? Non li vedo. Miserica. Mi stanno sul cazzo. Quando fanno così. Adesso le prendi però eh. Ok. Andata. E anche lui è andata. Mi vola tante le parti. Eccolo. Porca miserica. Vieni qua. Vieni. Eh. Purtroppo mi hai dato qualcosa di buono. Ma. Addio. È stato un piaciore. Porca miserica. Volano pezzi ovunque. E io non ho perso la metà delle cose. Però vorrei vedere un po' se c'è qualcosa. Perché. Ne ho persi tante. Allora. Non c'è un cazzo. Beh. Sono contento di essere entrato qua. Qui non c'è niente. Si. A parte non ho più palle. Cioè. Io sono entrato per perdere le munizioni. No. Per perdere le altre. Oh. Qui qualcosa c'è. Allora. Oh. Beh. Questo è una cosa buona eh. Molto buona. Siamo a 61 ragazzi. Ok. Dovremmo esserci. Dovremmo esserci. Dovremmo esserci. Dove cazzo è? Qui dentro? Eh. Mi chiede di fare. Una bella malletta di cosa. Qui dentro? E come cazzo. C'è a ruola. Ci entro qui dentro? Mi dovevi fare fare un giro atomico vero? Porca miseria. Devo fare un giro atomico. Perchè non ho ben capito. Allora. Questo. Mi manda. In alto. Vediamo un po' se. Rubita. No. Non ce la faccio. Non ho capito dov'è. Adesso provo ad andare di larga. Tanto da qualche parte. Dovro pure andare no? Insomma sì. Andiamo di qua. E vediamo se c'è un modo per entrare là. Eh. Bel casino. Guarda dove sono entrato prima. C'è. Faccio il giro. Adesso ci vuole mezz'ora per riuscire a capire dove cazzo andare eh. Bisogna capire queste cose. Qui dentro sono entrato. Qui dentro non si può. Meno che. Non provi. Non provi. Andare qui. Ok. Ok. E adesso. No. Che figa. Ok. E adesso. Adesso ci sono cavoli da cagare. Ok. Ok. Adesso. Adesso però le pagate tutti eh. Vai 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 vai. Oh cazzarola. Eh. Adesso. Adesso. Adesso mi amato. Ok. Ho fatto il pilo di energia. Meno male che ho questa. Questa mod che. Mi aiuta proprio tanto. Anzi. Ne ho due mod. Una per lo scudo. L'altra per. Che coso. Dove cazzo sei? Adesso. Vieni da me. Ok. Ok. Oh. Dai. Non sei ancora morto. Cosa mi hai dato? Tante cose. Prendi queste. C'è un fucile da 554. Che cazzo è? Allora. Prendiamo un po' di cose. Mamma mia. Quanta roba. E quanta roba. Allora. Fatemi vedere un attimo questo fucile da cecchino. Molto efficace contro gli scudi. Mmm. Però non mi interessa. Allora. Stavamo dicionando. Che probabilmente questo tipo è qua. Vero. Credo. Credo. Dove cacchio erano devo guardare? Dovrebbe essere più in basso. Allora. Questo qui intanto. Ok. Ok. No. Qua non devo andare. Eh. L'ho ucciso sto coso. Ma io non ho capito ragazzi. Dove devo andare. Perché non si capisce mai un cazzo in queste quest. Vabbè dai faccio un taglio. Poi vedo dove devo andare. Perché non ci ho capito una mazza. Di niente. Quindi ci vediamo fra poco. Ok. Forse. Forse è lui. Speriamo. Perché se no. Non so vedendo da chi cacchio andare. Oh. Vedi le sue mani. Forti. Bene. Dai regali. Io ti conosco. No. L'infermiera Nina eh. Beh. Dile che è molto gentile. Ma la cosa non mi interessa. Cosa? Rifiuta amore di Nina? Uccidi lui con fuoco. Così brucia. Come mi arrabbia. Lo sapevo io. Che doveva finire così. Cioè proprio era ovvio. che volesse qualcosa del tipo questo. E vai. Proviamo pure. Farai di guidare facilmente. Ok. Non ti farai di guidare facilmente. Ah. Con questo qui che spara. Raffica. Fai poco poco te. Aspetta. Ferma. Non fargli male. È troppo bello e forte. E sua voce mi fa ginocchia debole. Nina sei sempre stata la ragazza per me. Forse letale e con la giusta quantità di psicosi. Volevo solo essere certo che facessi sul serio. E non c'è promessa più salda di un tentativo di omicidio. Vieni da Nina. Lei ti sistema. Sarò da te? In un baleno. Mia cara. Grazie cacciatore della creta. Sono in debito con te. Quel fiorellino delicato mi ha conquistato la prima volta che l'ho vista. Mi viene da vomitare. Allora vediamo un po' come poter fare di mettere quella arma di prima. Perché insomma sì. E siamo a postolo. Ok. Quale ha detto? Non ho capito. Ok. Ho preso un po' di cosce. Mamma mia. Trovarlo non è stato facile. Perché non era proprio nel punto che diceva. Però insomma sì. Stavo per sparare una cacata. No. Perché mi dice niente. Ok. Andiamo. Ma devo stare attento a queste casse. Perché alcuni si apre con le pietre lunari. Allora intanto facciamo così. Ecco mi ha preso un po' di roba. Eh. 17 per... Fuggendo. No. Possiamo andarcene via tranquillamente. Ciao. È stato un piaciore. Andiamo pure via. E vediamo un po' che succede. Un po' di soldi mi servirebbero effettivamente. 19.000. Tu chi sei? Come deficiente. Insomma. Come se è estruso. Ok. Pensavo di avere la pistolina in effetti. Scusatemi tanto. Ma quanti devo guardare di questi qui? Perché mi lasciano in pace. Insomma sì. Ok. Cosa avevo trovato? Una mod. Aumenta la cadenza di fuoco. Aumenta la cadenza di fuoco. Aumenta la cadenza di fuoco. Mi fai saltare dietro ai piedi? Ma puoi prendere dietro ai piedi? Ma porca miserica. Ok. Andata. Petrolana. Petrolana. Non c'è un cazzo. Ok. Me ne vado via. Ho deciso che è meglio che vado via. No che c'è il vetro. Che figura di merda. Eh. Andiamo pure di qua. I punti di spostamento sono due. Non so quello più vicino effettivamente. Ovviamente avrò preso. Eccolo. Quello peggiore. Ok. Andiamo via. Corriamo più veloce della luce. Come sono scaduto. Insomma sì. Eccoci qua. Oh bene così. Dai che ce la facciamo. No. Non è molto lunga la strada. Ecco qua. Corriamo. Eh. Adesso non c'è più nessuno. Quindi ce la facciamo. Possiamo andare a consegnare. Dal punto di trasporto. Andiamo direttamente a cordia. Così prendiamo anche il potenziamento. Per inventario. Mmm. A sto punto penso di sì. Perché insomma sì. Si riempie in fretta. Eh. Dunque dunque dunque. Di qua. Cazzo anche. Sono saltandoci. Mi prendo danno. Non buono guana. Meno male che questo qui mi ha dato. Voi mi inseguirete per tutta la vita vero? Probabilmente sì. Ok. Ok. Altri. Ok. No. Ok. Ok. Andata bene. Vado a prendere questo. E ricarico. Almeno che ci sia un postolo. Ecco qua. Andiamo pure. Andiamo pure. Di qua. Eh. Adesso proprio qui mi seguirà. Fino all'esasperazione. Ok. Andiamo un po'. No. Mi sarebbe questa roba. Assolutamente. Ecco qua. Dai 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 dai. Iccidenti. Ah. Se non li ammazzo i gatti mi seguono tutta la vita. Io non ce la faccio. Ok. È andata. È andata anche questa. Vai 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 vai. Ok. Gli ho ripresi tutti. Gli ho preso anche due pietre lunari. Una qua. E questo cos'è? Sciraccecchino. Molto efficace quanto rischio. È già il secondo che trovo così eh ragazzi. Ok. Sì. È stato molto interessante. E basta. Andiamo via. Basta che non ce la faccio più. No. C'è altra gente. Quanti po' cazzo. Ho fatto proprio malo. Eh. Quanto pare qui. Dovrò. Un pochino darmi da fare. Ok. È stato incredibile. Vero? Lo dico sempre anch'io. Ok. Cavolo ragazzi. Qui c'è da morirci. Mi devo dare una mossa. Se no questi mi robinano. Non è morto. Ecco qua. Ok. Dovrebbero essere finiti. Speriamo. No. Ce n'è un altro che scassa i marroni adesso eh. Lo vedo già dallo schermo. Dalla mappa. Ma questo? Ah ecco dicevo. Niente? Non c'è? Non c'è? Posso andarmene? Ok. Andiamocene via. È lassù. Sarangia. Oh vada che siamo arrivati. Mamma mia che nervi. Verrà vada. Un po' di piede lunare abbiamo preso. C'è il punto save. Ho sbagliato strada vero? Ho sbagliato strada. Porca miserica. Eh. Guarda. Andiamo lontani. Era di qua. Eh. Ma io mi perdo sempre. Lo sapete ragazzi. Ma porca miserica. Eh. Vaffangulo. Devo andare di qua. Ecco. Dai. Certo che sei una donniciola a fare i salti eh. Santa miserica. Ok. Ce l'ho fatta. Adesso devo andare di qua. Però passando di là. Ok. Eh. Figuriamoci. Se non mi fai passare milioni e milioni di cose. Di qua. Di qua. Non si può andare. Ragazzi. Che palle questo posto. Fa proprio schifo. Guardate lì che cazzo di roba. Ma scusate. Non faccio prima di andare di qua allora. Dove vado ora? Vediamo. Eh. Eh. Vado prima di qua. Eh. Eh. Miserica. Eh. Sì. Andiamo di qua. Siamo arrivati. Mamma mia. Fatta palle. Eh. Me ne sono accorto. Sapete? Ecco qua. Siamo arrivati. Dai. Adesso queste qui mi seguono fino all'esasperazione. Però insomma sì. Siamo arrivati. Vero? Io che siamo arrivati? Siamo arrivati. Ma. Meno male. Oh. Certo. Senza il caccia radio è un casino eh. Ma cosa vuoi facere? Che ti arrivo io qua? Ecco. Sei morto. Tattito almeno. Non parlare. Mamma mia. C'ho la cosa massonica dietro. Tutto. Oh. Siamo arrivati dai. Meno male. Passiamo di qua. Così forse mi lasciano in pace. E vediamo un po'. Ok. Bene. Siamo arrivati. Vedo la luce alla fine del tunnel. Vedo la louse. Eccola qui la louse. Andiamo dalla tipa. Facciamo il potenziamento. E poi ci salutiamo. E vai così. Concordia. Concordia? Concordia. Sì. Mi scordo sempre dov'è. Porca miserica. Ok. Ci siamo. Allora. Che livello siamo a 17? No. Ancora per aprire i screen è presto. Andiamo di qua. Sono pieno. Adesso vado a vendere. E così siamo a posto. Poi appena potremo farò una. No. Tu non sei te. Tu sei te. E quanti te. Si. Prego. Prego. Ma non è proprio quello del mio interesse. Intento. Più che altro. Ma porca miseria. Avete visto cosa ha fatto quel poveraccio? Cacciatore della critta. Grazie ancora per avermi sistemato con Nina. Non sono mai stato così felice. Quando le mie ferite saranno guarite. Cominceremo a darci dentro. Oddio. Non vedo l'ora. Oh. Oh cazzo. Vabbè. Ognuno ha i suoi gusti. Però insomma sì. Allora. Andiamo pure a... Ti unisce all'altra persona a forza di mazzate. Eh sì. Congratulazioni. Che bello. Insomma sì. Va bene. Andiamo pure a... Tritare qualcosa. Non so se è meglio vendere o tritare. Vediamo un po' cosa abbiamo. Prima di tutto. Poi vediamo. Ci ragiono su. Intanto vendiamo. Non troverai merce migliore da nessun'altra parte. Mi fa tanto piacere. Me ne sono assicurato. Ah beh. Se te ne sei assicurato. Allora. Vediamo un po' le ganate lanciate. No. Aumenta la piacenza. Quando troverò un'altra come la mia. Festeggerò. Questo è sicuro. Allora. Questa la possiamo vendere. Ma è blu. Questa è blu. Se ne trovo un'altra blu. Siamo a posto. Allora. La pistola la vendiamo. Queste le vendiamo. Questa la vendiamo. Questa è verde. Maledizione. Questa la vendiamo. La vendiamo. La vendiamo. La vendiamo. La vendiamo. Questa la vendiamo. Vendiamo tutto. Si vendiamo dai. Vediamo anche questa. E questa è bianca. Vediamo anche questa dai. Questa è bianca. Che è 128. E. Pistolina. 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 Le mod che in realtà non mi interessano. Questa. Aumenta il danno. Non mi interessa. Questa è quella di prima. Questa la possiamo vendere. Allora. Praticamente non ho quello che volevo fare. Perché mi manca una blu. Vediamo se ce la vendono questa. Una blu. Ma va là. Bianca. 142. Peccato. Non possiamo fare un casso. Però andiamo dal tipo. A potenziarci. Il sindrifo mi è sempre stato addosso. Mi fa piacere? Non lo so. Mi sono perso vero? Probabilmente sì. Però dovremmo essere non tanto lontani. No. Qui c'è la tipa. Qui c'è quello la. Forse di qua. Ah. Di la. Ovviamente ero due passi prima. Perché se io faccio M. Lui mi dirà sicuramente che deve essere qua. Posti da vedere. Gente da uccidere. Sì. Sono d'accordo. Va bene. Andiamo dal tipo. Eh. Pazzo. Poi prendiamo i due. Un potenziamento o due. No. Forse meglio l'inventario. Perché. Potrebbe essere utile. Eh. Di qua. Potrebbe essere di qua. Di qua. Eccolo qui. Ci siamo arrivati. Non ci credo. Vediamo qui un attimo. Visto che ci sono. Armi. Meravigliose armi. No. Sono diverse. Questo fa lo zoom. E questo qui è bianca. Maledizione. In blu non l'abbiamo trovata. A presto. E siamo anche al punto di scambio. Quindi sì. Va bene. Dai. Come facevi a conoscermi? Non lo so. È una storia lunga. 50. E mi aumenti solo di 3. Mamma mia. Ma l'inventario è così piccolo qui. Mi sembrava più grande nell'altro. Beh comunque ci serve. Spero ti aiuti ad ammazzare meglio. Eh. Spero anch'io. Non lo so. Allora i gatti non mi interessano. Questo non mi interessa. Questo ce ne vuole 20. E questo qua. Le foci da pompa. Ce ne vuole 18. No. Ce ne vogliono 8. Beh. Non sarebbe male però. Ma l'inventario che abbiamo noi è 30. Mi sembrava forse più grande. Forse mi sbaglio. Ok. Ragazzi. Abbiamo fatto anche questa. E sono molto contento. Quindi ce ne rimane solo la primaria. Con questa ignota. Che spero di trovare. Eh. Dovrò la causa. Si chiama. Dovrò vedere se la trovo. Quindi ragazzi. Come al solito. Vi invito a fare un like. Un commento se vi piace la serie. Fammi sapere cosa ne pensate. Se avete voglia di fare due chiacchiere. E quindi. Vi do un saluto da Siva. Ciao ciao. Ciao.